Ciao a tutti. Lo so, forse vi sembrerò un disco rotto, ma ci tengo a sottolineare quanto la cosa migliore per comprendere quanto osserviamo sia l'approccio scientifico rispetto al tipico non sono un sostituite con astronomo, fisico, climatologo o scienziato a caso, ma a me pare che funzioni in quest'altro modo. E un esempio di questo concetto viene da un recente studio sulle teorie alla base della nascita dell'universo, che per usare un termine scientifico un po' incasina le idee degli studiosi. Vediamolo, ma prima ricordate che se mi state ascoltando siete la resistenza. Un centinaio di anni fa gli astronomi Hubble e Lemaitre scoprirono che le galassie più lontane si allontanano più velocemente da noi. Effettivamente quando guardiamo una galassia lontana scopriamo che la luce o altra radiazione elettromagnetica che esse emette si sposta verso la parte rossa dello spettro e in pratica aumenta la sua lunghezza d'onda. Un po' come succede le onde sonore quando si avvicinano, frequenza maggiore, o si allontanano da noi, frequenza minore. Il tipico esempio è il suono della sirena di un'ambulanza. Ecco che si avvicina, ecco che si allontana. La luce quindi soggiace allo stesso effetto osservato per le onde sonore, chiamato effetto Doppler. Ma ecco uscire fuori l'amico Fritz, un altro grande astronomo, Fritz Zwicky, che ipotizzò che questo spostamento verso il rosso non fosse dovuto al fatto che le galassie si allontanassero da noi a velocità tanto più grandi quanto maggiore la loro distanza, ma semplicemente che nel lungo viaggio la luce si stancasse. Sì, avete capito bene. Tanto è vero che quest'idea fu chiamata ipotesi della luce stanca. Secondo queste ipotesi i fotoni emessi dalle galassie perdono energia nel loro cammino verso di noi, per cui la luce ci appare spostarsi verso il rosso. Fatta questa premessa veniamo allo studio, un po' tecnico per la verità, di un ingegnere informatico, cioè neanche un astronomo, che se ne è uscito con uno studio osservativo che ripesca le intuizioni di Zwicky di un secolo fa. E perché lo fa proprio ora? E dopo cent'anni che il modello standard dell'universo basato sul Big Ben, pur con le sue incongruenze ancora da spiegare per bene, è accettato praticamente da tutto il mondo scientifico? Sarà un altro complottista? No, lo fa ora perché da poco è stato lanciato il telescopio spaziale James Webb, famosissimo, mirabolante, ne leggete dappertutto, che prometteva di aiutarci a capire i fenomeni dell'universo più profondo. E invece, appena acceso, piuttosto che aiutarci ha cominciato a dispensare mal di testa su mal di testa gli astronomi, scoprendo ad esempio galassie più lontane dell'età stessa dell'universo, o stelle matusalemme, o buchi neri laddove non avrebbero neanche dovuto essere, perché in un momento in cui l'universo era troppo giovane per avere avuto il tempo di formarli. Cioè, se un buco nero è dato dal collasso di stelle massicce, bisogna dare a queste il tempo di formarsi, magari da nubi di gas derivate dalla morte di stelle della generazione precedente, poi di vivere consumando tutto il loro combustibile e quindi morire trasformandosi in buchi neri. Insomma, bisogna dare loro un bel po' di tempo e invece ce li ritroviamo, belli e tronfi, appena qualche centinaio di milioni di anni dal Big Bang. La teoria di Zwicky, ripescata dall'ingegner Leor Shamir, professore di informatica alla Kansas State University e basata sull'osservazione di oltre 30.000 galassie, potrebbe spiegare il paradosso che vi ho appena raccontato. Che ha fatto il nostro Shamir? Innanzitutto ha verificato che la rotazione della Terra con tutto il sistema solare attorno al centro della nostra galassia, la Via Lattea, non incidesse sulla misura del redshift, ovvero quello spostamento verso il rosso che abbiamo visto prima. Tornando all'esempio dell'ambulanza, se io mi avvicino ad essa mentre lei corre verso di me, la frequenza del suono risulterà ancora più acuta, questo è intuitivo. Succede così anche per il redshift, perché vedete, in questo momento a voi pare di star fermi, ma vi muovete a velocità assurde. Ve lo spiego nel prossimo video, torniamo al nostro Shamir. Il nostro informatico, con un approccio logico, ha misurato il redshift delle galassie situate in prossimità del polo della nostra galassia, così che la misura non fosse influenzata dal fatto di muoversi verso di esse o allontanarsi da esse durante la rotazione attorno al centro. Per farlo, e questa lezione dovrebbe essere imparata da tutti quelli che dicono, ma a me non mi pare, ha utilizzato i dati di tre diversi telescopi, annotati utilizzando quattro metodi diversi, rilasciati da tre diversi team di ricerca, dati che si trovano in perfetto accordo tra loro, cioè indipendenti dal telescopio, dal metodo e dal team di ricerca. Ha confrontato questi dati e ha scoperto che il redshift medio delle galassie che ruotano nella stessa direzione rispetto alla Via Latte è più alto del redshift medio delle galassie che ruotano invece nella direzione opposta. Inoltre, la differenza di redshift diventa maggiore all'aumentare del redshift. Mi rendo conto che è tutto un po' troppo tecnico, ma quello che il professor Shamir sta dicendo è che la differenza osservata nello spostamento verso il rosso potrebbe indicare che lo stesso spostamento sia influenzato dalla velocità di rotazione e pertanto che il modo in cui è implementato in astronomia è incompleto o in altro modo, che questi risultati potrebbero essere la prima osservazione empirica diretta e riproducibile per il modello della luce stanca dell'amico Fritz Zwicky. In pratica, o è impreciso il modello cosmologico basato sul Big Bang, o è impreciso l'indicatore di distanza, cioè lo spostamento verso il rosso. In effetti, spingendo all'estremo le ipotesi risultanti dall'analisi di questi dati, la teoria della luce stanca potrebbe sostenere che il Big Bang sia stato semplicemente un artefatto creato dalla perdita di energia dei fotoni e che l'universo sia di fatto in uno stato stazionario, non che si stia spandendo. Eccolo il bello della scienza. Essa può in qualunque momento smentire se stessa, ma non con un'opinione, non con i mi pare o con i mi sembra, ma con un set pubblico di dati e gli strumenti della scienza, la matematica, la fisica, la statistica, dati che poi possono essere presi da chiunque e analizzati con altri strumenti della scienza per ottenere i propri risultati, che saranno uguali o diversi. Ci sarà sicuramente qualcuno che proverà a ripetere gli esperimenti di Shamir, e allora vedremo se le sue conclusioni sono giuste. Nel frattempo siamo come il povero gatto di Schrödinger, contemporaneamente in un universo fermo, immobile e stazionario, e in un universo che si espande a rotta di collo. Ciao, da Mitiche Stelle.